L'offerta formativa dell'Istituto Superiore Donnicale Arena comprende i seguenti indirizzi Amministrazione, finanza e marketing, sistemi informativi aziendali, turismo, tecnico-industriale in automazione e nautico Open Day 18 gennaio 2020 in tutti i nostri plessi Filippo Bellanca, lei è fuori dalla scena politica, quella da protagonista, dal settembre 2018 Dal momento dell'azzeramento dell'Aggiunta Valenti, adesso comunque si parla, la situazione politica è sicuramente mutata Come vede lei in questo momento la situazione amministrativa? Sicuramente è una situazione molto difficile perché in Consiglio Comunale, come tutti sanno Questa maggioranza che governa non è più maggioranza E' difficile perché c'è una situazione anche amministrativa Difficile perché tutti ricordano certamente le varie sostituzioni che sono state fatte dagli assessori Ed è chiaro che di tutto questo ne risente certamente la città Si palesa la possibilità della presentazione di una mozione di sfiducia E' quello di cui si parla in questi giorni A quanto pare il Movimento 5 Stelle sarebbe già pronto a presentarla, a protocollarla Ci vogliono soltanto dieci consiglieri I numeri ci dovrebbero essere quantomeno per la presentazione Secondo lei che significa una mozione di sfiducia per la città di Sciacca? Guardi, intanto la mozione di sfiducia è un atto previsto dalla legge Dalla legge per le elezioni dirette del sindaco E' chiaro che quando viene meno il dialogo fra le forze politiche Anche fra quelle che governano e quelle che stanno all'opposizione E poi successivamente tutto quello che noi abbiamo visto Anche di spaccatura all'interno della stessa maggioranza E' chiaro che l'unico strumento che i consiglieri comunali hanno è quello della mozione di sfiducia Non ci possono essere altre soluzioni Ma non la vedo un problema La mozione di sfiducia è una cosa seria, non è un fatto da barre La mozione di sfiducia prevede determinati passaggi Come ha detto lei appunto per la presentazione 10 consiglieri comunali E poi viene affidato tutto alla dinamica d'aula Perché poi per passare ce ne vogliono 15 Quindi diciamo che è una cosa prevista dalla norma Ed è l'unico strumento che i consiglieri comunali hanno Per fare un po' di chiarezza Perché c'è anche molta confusione in questo senso Lei è stato uno dei protagonisti della campagna elettorale anche di Francesca Valenti Ha ricoperto il ruolo di assessore Un assessorato importante Poi l'azzeramento in questi mesi Lei ha spiegato i motivi anche del momento in cui è uscito fuori di scena Poi per tanto tempo il silenzio Però come ha visto questi mesi Insomma quella che è stata il comando della sindaca Valenti? Guardi ho visto quello che hanno visto tutti Nel senso che da quel momento è partita una fase Che ancora oggi credo che sia difficile da interpretare Ma non difficile per me ma difficile per i cittadini stessi Perché poi che sia difficile per me conta poco Conta che nessuno capisce dove stiamo andando E a cosa sta servendo tutto questo movimento che c'è Principalmente all'interno della giunta Leggevo da qualche parte che sono 15 gli assessori sostituiti Se ne prepara un sedicesimo Insomma una cosa complicata Niente a che vedere con l'affrontare i problemi della città Che è chiaro che poi un assessore che viene sostituito L'altro che deve riniziare Già è molto difficile per chi conosce bene Come funzionano i meccanismi del comune Ma a maggior ragione chi è nuovo di queste cose Dovrà prima fare un minimo di periodo di rodaggio E nel mente per i problemi vanno avanti Per mandare a casa la sindaca Valenti Ci vorrà il voto di 15 consiglieri Serviranno anche quelli dell'attuale maggioranza Comunque di chi appoggia esternamente questa giunta Come il gruppo di Italia Viva Ex Chacca Democratica Che tra le altre cose ricordiamo la lista Con la quale lei è stato appunto eletto Nominato assessore E poi non più consigliere Per quel passaggio politico che tutti conosciamo E secondo loro dicono in questo momento Mozione di sfiducia nel 2021 Secondo lei si può fare? Ma guardi la mozione di sfiducia non è un farmaco Non è uno yogurt che ha una scadenza Un atto o si fa o non si fa O si fa e quindi con le tempistiche che sono previste Oppure se ne parla quando sarà opportuno E' chiaro anche che Proprio perché la legge prevede queste due fasi Cioè la prima che è quella della presentazione a 10 consiglieri comunali E quella poi per essere votata Per passare positivamente 15 consiglieri comunali E' chiaro che tutto è affidato alle dinamiche d'aula Non a caso c'è anche una sentenza della Cassazione Che proprio spiega da un'interpretazione sul voto disgiunto Che il sindaco può prendere Perché tutti sappiamo che si possono votare consiglieri di una coalizione E il sindaco di un'altra coalizione Proprio questo dice la sentenza E' compito del sindaco crearsi anche le maggioranze variabili in consiglio comunale Come vale per il sindaco? Questo vale anche per chi presenta la mozione di sfiducia E' chiaro che firmano possibilmente 10 Adesso non lo so quanti saranno Che firmano la mozione di sfiducia Ma il voto può essere anche più ampio Per quanto riguarda invece il futuro Nella possibilità di uno scenario si andrà comunque ad elezioni Qualcuno dice che ci sono dei consiglieri di opposizione Che comunque temono anche le elezioni Perché dopo insomma una giunta che va a casa Perché è mandata appunto dai consiglieri comunali Chi la vota rischia anche esso di essere travolto dall'ondata Appunto poi alle urne del dissenso popolare Lei che cosa pensa su questa possibilità Che comunque quella che si ripresenti sia una nuova giunta Completamente mutata rispetto a quella attuale? Guardi secondo me non si deve mai avere paura delle elezioni Perché le elezioni sono un momento di alta democrazia Cioè quello è il momento più bello secondo me Quindi avere paura delle elezioni è assurdo E' chiaro che lo scenario che si va a creare È uno scenario molto incerto Incerto perché appunto per tutto quello che è successo Ma questo è il problema di chi è stato attore principale di queste vicende Non certamente per chi ha cercato di essere propositivo E di fare appunto anche proposte che non sono mai state ascoltate Capiamo perfettamente che nel suo futuro c'è anche la politica Quindi magari lei attende anche quel momento Per potersi ripresentare all'elettorato No non è che nel futuro c'è la politica Secondo me è una cosa che quotidianamente uno svolge Svolge, fa poi la passione La passione è sempre quella forte che ti trascina Ed è chiaro anche che in una competizione elettorale Perché no provare anche a costruire un progetto politico Importante, una coalizione importante Che possa veramente in maniera seria affrontare i problemi della città Grazie Grazie